Un bel incontro in cui si è parlato di quelle che sono state le cose fatte a Soveria Mannelli, un paese che negli anni è riuscito a proporre sempre delle novità e delle eccellenze, partendo dalla capacità di essere uno dei comuni più informatizzati d'Italia, alla presenza della Rubettina Editore, che è una casa editrice di livello nazionale, alla presenza di tutto quell'arteggianato di qualità tipico della nostra regione. Qui dalle eccellenze dobbiamo ripartire, quindi la possibilità di valorizzare tutta la produzione artigianale, partendo dall'arineficio Leo, che rappresenta un marchio storico di questa regione, ha la ceramica e quindi tutto questo naturalmente ricongiungerlo con dei percorsi turistici che potrebbero essere particolarmente interessanti e potrebbero soprattutto lavorare su quel nuovo turismo esperienziale che noi tanto stiamo valorizzando nel nostro paese. Grazie. 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 Grazie.